Affascinante nella sua forma e funzione, la nuova tenda da sole a cassonetto Marche Luxe MX2 si distingue per il suo look elegante e senza angoli e spigoli. Il look della MX2 reinterpreta completamente il termine moderno nelle tende da sole. Le linee pulite e la forma armoniosa ricordano l'architettura contemporanea e il design di prodotti moderni. Il profilo frontale e il cassonetto si distinguono entrambi per il loro stile arrotondato. Quando è chiusa, entrambi gli elementi definiscono un chiaro concetto di forma e la tecnica interna e il telo sono perfettamente protetti dal vento e dalle intemperie. I bracci estensibili della Marche Luxe MX2 sono collocati lontani dall'esterno dell'alloggiamento. Questo mette in risalto il telo della tenda da sole ancora meglio e permette una maggiore libertà per il design del vostro terrazzo. Inoltre, i nostri colori del telaio offrono ancora più opzioni di design. La verniciatura a polvere di alta qualità completa l'effetto del colore del telo e crea una connessione ideale con la vostra architettura. L'eleganza di questa tenda da sole a bracci estensibili risulta particolarmente efficace nelle grandi larghezze. È per questo che proponiamo questo modello in dimensioni massime di 5 o 6 metri, con una sporgenza di 3 metri e mezzo o 3 metri. Staffe quasi invisibili per il montaggio a parete e a soffitto conferiscono alla MX2 un aspetto quasi sospeso. La nostra tecnologia del giunto di inclinazione migliora questo effetto e assicura che la tenda si chiuda in modo preciso con qualsiasi inclinazione. A seconda della situazione abitativa, l'angolo di inclinazione della tenda da sole può essere regolato individualmente durante il montaggio. Potete scegliere tra i 5 e i 30 gradi. Per evitare sacche d'acqua in caso di un angolo di inclinazione basso, la tenda è dotata di una grondaia che fa sì che l'acqua defluisca sul lato del profilo frontale. Per un'illuminazione efficace e un'atmosfera accogliente la sera, sotto la tenda da sole è possibile installare una linea di LED, spot LED o radiatori termici. Teli straordinari per un'atmosfera speciale. Potete scegliere tra più di 200 modelli di teli che combinano funzione design. Soprattutto la nostra esclusiva serie Visutex presenta interessanti motivi ed effetti strutturali, oltre a colori brillanti. La serie SmartArt offre ancora più idee per un highlight visivo sulla vostra terrazza. Questa tecnica di stampa innovativa permette la creazione di motivi di telo straordinari per la vostra tenda da sole e da sogno. Markilux MX2, l'essenza del design fluente e la perfetta tecnologia.